Ciao, buongiorno, oggi è venerdì di Quaresima e siamo davanti a un Cristo crocifisso un po' particolare. È un Cristo che già si sta staccando dalla croce e è già nella torsione della risurrezione. Sì, è quasi crocifisso, però è già anche risolto. Vedete che le mani si sono staccate già dalla croce e il volto è un volto di vivo che è verso la luce di Dio. Ecco qua, è bello anche pensare a Cristo, sì, morto, ma noi non ci fermiamo soltanto alla morte di Cristo. Se non avessimo dietro anche l'evento della risurrezione, noi saremo seguaci di un Cristo morto. Noi siamo seguaci di un Cristo vivo, morto e risorto. Allora, questo è molto importante, Cristo già ci parla di vita. Ecco, ci stiamo preparando anche alla Pasqua. Sì, avremo la passione di Cristo, ma dietro già guardiamo la luce della Pasqua e della risurrezione. Non siamo seguaci di un Cristo morto, ma di un Cristo vivo. Ciao, buona giornata a tutti.